Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Allora, oggi non parlo né di Guardiola né di Sarri perché ormai siamo a venerdì Vedrò appunto nelle prossime ore come si sviluppa la vicenda e poi magari farò un video a parte Oggi sono qui appunto per parlare di calciomercato, di come la Juve si sta muovendo Cercando di piazzare alcuni colpi, il primo di tutti appunto è Mattias Delit Come sapete ormai la Juventus ha puntato gli occhi per questo giovanissimo classe 99, quindi 20 anni Ovviamente si pensa che abbia ricevuto un'offerta da parte della Juventus per addirittura 10 milioni di ingaggio a stagione Mentre il PSG ne abbia offerti 12 a stagione, mentre il Barcellona è fermo a 6 È una pista appunto percorribile, la Juventus come sapete è in contatto con Minoraio, la che è il suo agente Quindi molto probabilmente potrebbe arrivare l'importo, quindi potrebbe addirittura sbarcare a Torino Il Barcellona addirittura si reputa irritato da parte del giocatore Adesso si attende appunto le vicende, sicuramente ha una valutazione molto elevata Si parla addirittura di un 60 milioni o 70 per il difensore Che magari ci possono anche stare come no, però comunque è un giocatore di prospettiva Che sicuramente potrebbe fare bene e addirittura, visto anche ormai l'età di Chiellini, di Bonucci Insomma, la Juventus dovrebbe appunto cercare di svecchiarsi un pochino Un altro colpo che addirittura si pensa è, stiamo parlando di Rabiot Rabiot è un giovane, mi sembra che abbia 23-24 anni È in scadenza con le Paris Saint Germain, è in scadenza il contratto 2019 Quindi quest'anno il 30 giugno si dovrebbe liberare a zero Lui già ha detto che sta valutando questa operazione Rabiot è comunque, essendo un giovane potrebbe fare bene alla Juventus Un centrocampista che può giocare anche come mediano Dove appunto l'unico problema potrebbe essere appunto l'ingaggio Addirittura anche il Barcellona ha messo le mani avanti per questo giocatore Vedremo se la Juventus riuscirà a bruciare la concorrenza L'ultimo obiettivo ovviamente La Juventus ha puntato gli occhi Ovviamente stiamo parlando di un altro difensore, ovvero Costas Manolas Un greco, un giovane, il difensore addirittura della nazionale greca Che attualmente ha una valutazione, anzi ha una clausola recessoria di 36 milioni E ha 28 anni Quest'anno dovrebbe compiere, scusate, 29 anni Sicuramente è un grande difensore Magari alcune volte si è infortunato spesso Potrebbe essere appunto affiancata a Chiellini o anche a Bonucci Potrebbe formare davvero un bel muro Dove sarà difficile per gli avversari appunto stanare la difesa di Bianconera Comunque sia Addirittura si sta parlando da qualche ora di questo ipotetico scambio tra Iguain e Manolas Il che farebbe comodo sia alle casse bianconere che alle casse appunto della Roma Iguain appunto ha una valutazione di 36 milioni Quindi alla fine sarebbe uno scambio alla pari Anche perché Iguain attualmente Diciamo la Juventus vuole liberarsene Come sapete Chiede appunto 36 milioni Che erano appunto i 36 milioni del riscatto Che doveva appunto esercitare il Milan quest'anno E purtroppo il Milan non può perché ha i paletti del fair play finanziario Quindi potrebbe essere appunto uno scambio alla pari Niente ragazzi Per quanto riguarda invece Come ho detto prima Sarri Dicono che oggi sarebbe liberato il Chelsea Però io ormai continuo nella mia convinzione Dalle mie fonti Dato tutto ciò Io sono sempre sicuro Magari non io Però comunque da quello che sento Anche dagli altri Sono convinto che Guardiola potrebbe approdare la Juventus Ricordatevi che comunque Io insieme a pochi altri Siamo stati anche i primi a riportare questo Se voi guardate appunto i video vecchi Sul canale potete vedere appunto la data E così potete confrontarvi con altri Con altri youtuber Adirittura oggi Quindi ripeto Si parla che Sarri dovrebbe liberarsi dal Chelsea Oggi Però Sapete anche che oggi chiudono appunto le borse Quindi Che verrà un giorno allenatore pomeriggio Stasera borse chiuse Chi lo sa Fatto sta Che attualmente non c'è ancora niente di ufficiale Niente ragazzi Fatemi sapere cosa ne pensate Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi Ancora